Sono ben 1157 i comuni al voto il 3 e il 4 ottobre, con turno di balottaggio fissato per il 17 e il 18 ottobre. 12 milioni di italiani chiamati alle urne considerano anche gli altri 192 comuni di regione a statuto speciale. Sei capoluoghi di regione che dovranno scegliere i nuovi sindaco e consiglio, Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna e Trieste. In Campania si vota in quattro province su cinque, anche a Benevento, Salerno e Caserta. Solo Avellino non cambierà guida politica.